è in arrivo sul binario 2 il treno confermata obbligatoria a Villa Santina tutti i passeggeri possono scendere a ristorarsi al barbuffe stazione panini caldi, stuzzichini, piatti freddi, gelati e ancora servizio lottomatica, biglietteria saf, giardino, parco giochi per bambini e sala riunioni a disposizione barbuffe stazione a Villa Santina, il vostro nuovo punto d'incontro è in partenza sul binario 2 il treno